Musica Avevano piazzato in tutta Italia ingenti partite di prodotti elettronici e informatici evadendo l'IVA per circa 12 milioni di euro e reinvestito i proventi dei loro traffici acquistando immobili che venivano trasferiti con una serie di passaggi per poi confluire in una società pulita, a loro riconducibile. Un sodalizio questo scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma composto dai membri di una stessa famiglia che aveva orchestrato un articolato sistema di frode all'IVA per 12 milioni di euro costituendo sei società che acquistavano all'ingrosso da paesi dell'Unione Europea e dalla Repubblica di San Marino. Acquistavano partite di prodotti e-tech per svariati milioni di euro. Il sequestro è scattato per conti correnti ed immobili di pregio per un valore di oltre 16 milioni. Nove invece le persone denunciate, di cui una in stato di arresto.